Ciao, sono Isabella e benvenuto nell'AppDish POS. In questa esercitazione ti mostriamo come chiudere e aprire una struttura self-service. Innanzitutto apri il menu, poi tocca stato del self-service. Ora ti trovi nella panoramica delle vostre strutture self-service. Tocca la struttura di cui si desidera modificare lo stato. A seconda dello stato attuale della struttura, ti verrà chiesto se volete chiuderla o aprirla. Per farlo, tocca su. Nota, una struttura chiusa verrà automaticamente riaperta il giorno successivo secondo gli orari di apertura. Tutto qui. Hai completato l'esercitazione e ora sai come chiudere e aprire una struttura self-service.